E' un fenomeno in crescita che sembra interessare fasce sempre più giovani della popolazione. E lo conferma anche quanto accaduto nella notte tra il 7 e l'8 marzo scorsi a Calcinelli di Saltara. Nel piazzale antistante una discoteca e carabinieri hanno sorpreso due ragazzi a bordo di una Volkswagen Golf con le luci di cortesia accese quando alla vista dei militari hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri nascondendoli sotto il tappetino dell'auto. E' scattata la perquisizione. Un 19enne pregiudicato di Sant'Elpidio Amare, un 18enne di fermo incensurato sono stati trovati il primo con alcune dosi di cocaina, hashish e marijuana, nonché quasi 8 grammi di MDMA già confezionata in 26 involucri, mentre il secondo con 2 grammi di chetamina e 4 di marijuana. Chiesta la collaborazione ai carabinieri dei luoghi di loro provenienza, sono proseguite le perquisizioni nelle rispettive abitazioni, dove sono stati rinvenuti ulteriori grammi di marijuana, di hashish e 4 passiglie di ecstasy e un bilancino di precisione. I pusher pendolari dello spaccio e con una gamma completa di sostanze stupefacenti a disposizione sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.